Dalle volte sento una grande tristezza quando vedo qualche comunità che con buona volontà ma sbaglia la strada perché pensa di fare la Chiesa in raduni, è come se fosse un partito politico, ma la maggioranza, la minoranza cosa ci pensa su questo, sull'altro, sull'altro e a questo è come un sinodo, una strada sinodale che noi dobbiamo fare, io mi domando ma dove c'è lo Spirito Santo lì, dove c'è la priera, dove c'è l'amore comunitario, dove c'è l'Eucaristia, senza queste quattro coordinate la Chiesa diventa una società umana, un partito politico, non dimentichiamo mai questa parola di Benedetto XVI, la Chiesa non cresce per proselitismo, cresce per l'attrazione. Se manca lo Spirito Santo che è quello che attrae a Gesù, non c'è la Chiesa lì. C'è un bel club di amici, bene, con buona intenzione, ma non c'è la Chiesa, non c'è sinodalità. Grazie.